Ancora in diretta, oggi sono le 14, circa le ore 2, qui trasmettiamo da Roma oggi, da Quidonia. Oggi è venerdì 24 aprile, ore 14. Per mandare in diretta un altro volantino, un video volantino, possiamo chiamarlo questo. Togliamo l'AIDS dalla vita dei bambini, un volantino di 30 ore per la vita e della comunità di Sant'Egidio. È un volantino che si prefigge un progetto, un volantino che illustra un progetto di 30 ore per la vita per la comunità di Sant'Egidio per l'Africa. Il programma DREAM si tratta di un progetto che cerca di offrire degli aiuti sanitari e di alimentazione per bambini nate da mamme seropositive all'AIDS. Il bambino nato da mamme seropositiva dai primi momenti della sua vita fino al 18esimo mese ha assoluto bisogno di un'adeguata integrazione alimentare. Oltre che di visite mediche, di analisi di laboratorio, solo quando il bambino arriverà a questa età potrà essere considerato ossiero negativo. Quindi insomma una raccolta di fondi della comunità di Sant'Egidio, 30 ore per la vita, Ollus, per l'Africa. Quindi ecco qui è allegato anche il conto corrente costale e si può fare un'offerta sul conto corrente 5710060, vedete? Insomma devo dire di aiutare questi bambini. Ricordo anche che Sant'Egidio è una comunità molto seria, affidabile, che aiuta bambini di ogni parte del mondo e mi suggerisco insomma di fare qualcosa per queste persone, perché oltre che farlo per loro, lo farete anche per voi. Allora un saluto da Paolo, guidogna.tv. Ciao a presto.